Una buona serata, ben ritrovati per la seconda edizione di Weekend Sabato, esclusiva di speciale News Web 24. La nostra testata informativa online ha intervistato la cantante Arisa che ieri sera ha tenuto un applauditissimo concerto a Trinitapoli nel quadro degli appuntamenti estivi della città trinitapolise. È stata intervistata da noi e si è raccontata a 360 gradi dai successi di Sanremo fino al suo nuovo tour. L'intervista è stata effettuata dalla nostra inviata a Trinitapoli, Anna Maria Natalicchio.